Potie, hai iniziato questo conto alla rovescia per un concentramento a Montecatini che vi può regalare l'ultimo step verso il sogno? Sì, siamo pronti. Non vedevamo l'ora di arrivare a questa partita perché è passata più di una settimana ormai dalla finale di conference, quindi vogliamo fare questo step successivo che vorrebbe dire Serie A2. 12-13 giorni, è un po' logorante questa attesa? Abbastanza, ma è servito anche per recuperare le energie, le forze e studiare anche l'avversario in questi pochi giorni e preparare quella che sarà la partita decisiva. L'Urania-Milano che avversario è? È una squadra molto lunga, c'è giocatori esperti, un'età media superiore alla nostra, quindi gente che ha già giocato queste partite anche in serie superiori, quindi sarà una bella sfida. Diciamo che lo si è visto contro Salerno che è un avversario più o meno paragonabile alle squadre che affronterete a Montecatini, squadra esperta, però voi mettete gioventù, ritmo, pressione, tiro da fuori, insomma queste saranno le vostre armi? Dovremmo essere bravi sicuramente a imporre il nostro gioco, il nostro ritmo, perché come abbiamo visto se riusciamo a mettere in campo l'energia e la voglia di fare che comunque abbiamo espresso nelle ultime partite possiamo dire la nostra. Tu sarai ancora un cavaliere mascherato o no? Penso di sì. Ora porta anche fortuna. Porta bene, ormai continuo così fino alla fine. Grazie. 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 Grazie.